Oggi è un giovedì 3 ottobre 2019, bel tempo, sereno, sole splendente, temperatura fresca, si sta veramente bene in ottobre. È un bel periodo, pronto per fare le gitte, non mi stanco perché non fa troppo caldo e non fa freddo e non c'è la neve. Questo è il mio clima ideale, basta mettere un giubbotto leggero. Oggi in partenza verso il cielo, verso il mio destino diciamo. E vado a fare una bella passeggiata ancora di nuovo al lago di Como, sponda del ramo di Lecco, verso Mandello dell'Ario, dove lì posso cercare, trovare una cascinetta piccola piccola in affitto provvisorio. Però mi piacerebbe avere altre cascine in Lombardia, piccolissime, come Novata e Mezzola, che forse i miei amici stanno cercando per me un luogo abitativo, ma non per sempre. Ogni tanto, anche ore e poi meridiane, da poter fare un piccolo ristoro all'interno del locale della cascina e dove poter dipingere. Speriamo che sia una bella fine del 2019 alla ricerca continua di queste piccole cascine in Lombardia. Ne troverò, sono sempre in cerca, l'importante è che sia il prezzo, se ancora gratis, e meglio anche i locali abbandonati, dove io posso abitare in un senso di rifugio e fare l'eremita. Grazie. Grazie.